Allora, dato che oggi è il giorno del mio compleanno, dato che in fondo il compleanno è la festa dell'avvicinarsi dell'oscura a mia titrice La morte verrà all'improvviso Ho deciso di farvi un regalo e nel prossimo video pubblicherò un cortometraggio che nessuno ha mai visto che non ho mai caricato da nessuna parte, né su YouTube o nessun altro canale, insomma, che è perfetto per l'occasione Il titolo del cortometraggio è She and Me, cioè lei e me o Io e lei, che è un titolo abbastanza poco usato, insomma, a parte questo film è con Sabrina Ferilli E niente, che posso dire, l'ho girato più o meno negli anni 70 e fa parte di quella famiglia di film in alta definizione che ho fatto che non sono ancora presenti online Quindi niente, mi sembrava l'occasione giusta per farvelo vedere E niente, quindi se volete farmi un regalo di compleanno, guardatelo Richiede tre minuti di attenzione, c'è un montaggio più cinematografico, quindi meno veloce come questi video Ok, e adesso spegnerò la mia candelina Ok, grazie a tutti Grazie.